Si allarga lo sguardo dell'occhio attento delle telecamere di video e sorveglianza nel territorio comunale a retino nell'ottica di un rafforzamento del sistema della sicurezza della città. Le circa 90 telecamere presenti sul territorio comunale potranno infatti fare rete con la centrale operativa della Questura e quella dell'Arma dei Carabinieri grazie all'immediato collegamento con la centrale della Polizia Municipale. È stato firmato un protocollo d'intesa tra Prefettura e Comune di Arezzo che ha messo a disposizione le immagini riprese dalla circa 90 di telecamere presenti sul territorio del nostro comune e che verranno rilanciate non soltanto alla sala operativa della Polizia Municipale ma anche a quella della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Carabinieri. In questo modo le stesse immagini saranno viste contemporaneamente anche da altri soggetti abilitati alla sicurezza quindi questo aumenta in generale il sistema di sicurezza passiva presente sul territorio. Di questi tempi è importante che la presenza fisica delle forze di polizia che appunto ovviamente in un territorio vasto insomma è anche a fronte di fenomeni criminali che ovviamente non possono essere fronteggiati con risorse che ovviamente non potranno mai essere in numero tale da far fronte all'entità dei fenomeni devono essere assolutamente affiancate dall'intelligenza delle strategie che deve essere un'intelligenza tecnologica e quindi ben vengano appunto sistemi di supporto all'azione anche umana e anche come dire con sistemi di intelligenza nel senso la capacità delle persone, delle istituzioni di saper lavorare insieme. Quindi il lavoro di squadra è un lavoro fondamentale e che è quello secondo me che fa la differenza e consente poi di dare risposte vincenti ai cittadini. Grazie. 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 Grazie.